La geometrica perfezione degli storici e bianchi palazzi, contornati dalle imponenti colonne. La moderna e immomimentata architettura degli specchianti ed enormi edifici dell'alta finanza e dei grandi affari. Al centro, un tranquillo polmone d'ossigeno con un laghetto artificiale, il fresco dei fioriti alberi, le zampillanti fontane ed i verdi prati di primavera. Queste sono le due facce di una medaglia chiamata EUR. Vista anche dall'alto, l'EUR in Roma. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.